Ciao a tutti, benvenuti, sono Davide Travelli a Laska to Patagonia e oggi vi faccio un unboxing e recensione della luce frontale, della lampada frontale, la Zipka 300 della Petzl. Mi è stato chiesto che luci mi porto nel viaggio, che luci monto sulla bici. In questa avventura ho solo la lampada frontale e ho avuto per tanto tempo la luci, si chiama luci la marca, è una lanterna solare, è molto utile, ho visto tanti americani che la usavano, che incontravo in California e poi quando sono andato all'Ariae a San Diego ne ho comprato anch'io uno e non l'ho usata negli ultimi dieci mesi di viaggio perché mi è stata rubata il primo giorno che sono entrato in Ruanda, me l'ha strappata qualcuno dalla borsa dove la lasciavo sopra caricare e non mi sono accorto. O meglio, mi ero accorto ma pensavo che erano dei ragazzi che stavano tentando di buttarmi dalla bici, invece poi mi sono accorto che non è che stessero tentando di buttarmi dalla bici, era un tipo che mi aveva proprio fregato la lampada, ma adesso l'ho ricomprata e al massimo ve ne parlo la settimana prossima. Comunque poi per praticamente dieci mesi, anche in Turchia, Balcani, dalla Ruanda all'Egitto, ho usato solo una lampada frontale, secondo me è tutto quello di cui si ha bisogno. Questo è sempre un bonus da avere quando si campeggia, ma lo vedremo magari la settimana prossima, ma si può fare benissimo tutto con una sola lampada frontale. In Sudan ho anche pedalato molto la notte, facevo delle notti intere perché di giorno faceva troppo caldo, superavano i 50 gradi, quindi ho iniziato a fare abbastanza… e ho beccato una settimana praticamente senza luce perché non c'era la luna, non c'era luna nuova, si dice, quando non c'è la luna. Quindi facevo tutto con la frontale e niente. Io avevo questa Black Diamond Storm, un vecchio modello della Storm che ho comprato, mi sembra, nel 2008, al massimo nel 2009, quindi è durata per più di dieci anni. Ultimamente, l'ultimo anno, un LED rosso non funziona più e la settimana scorsa, quando ho fatto l'avventura sul Monte Misma, anche uno dei LED bianchi di luce diffusa ha smesso di funzionare. Quindi ho detto, prima che smetta di funzionare anche il LED principale, probabilmente dopo i dieci anni è ora di cambiare. Ho deciso di cambiare marca, è una cosa che faccio raramente quando trovo un prodotto che è una marca, che fa prodotti che comunque sono sono reliable, cioè sono su cui si può fare affidamento e che durano per tanto tempo, mi pare inutile cambiare marca. Il problema è che cercavo un qualcosa di nuovo nella mia lampada frontale, cercavo essenzialmente due cose. Una cosa di togliere questo elastico che dopo un po' iniziano a slabbrarsi, perdono elasticità e quindi è un casino. Probabilmente è un problema solo mio perché magari non ho i capelli e non lo so, un po' la cute grassa crea questo problema. Ma la seconda caratteristica che volevo da una lampada affrontare era il fatto che potessi utilizzare delle batterie ricaricabili al posto di continuare a dover ricomprare delle batterie per varie ragioni, per non creare comunque sempre rifiuti per l'ambiente e poi perché comunque nella maggior parte dei paesi diciamo in via di sviluppo, chiamarli noi così, è difficile trovare batterie di qualità. magari trovi delle batterie che ti durano un paio d'ore e poi sono da buttare, non sono come le alcaline che abbiamo qui in Europa diciamo. Quindi cercavo un qualcosa che potessi utilizzare delle batterie ricaricabili però che non mi dovesse portare indietro un caricatore di queste batterie ma che potessi utilizzare il corpo della lampada affrontare per ricaricare le batterie. Black Diamond ha un prodotto del genere che si chiama Black Diamond Revolt è di 300 lumen come la Zipka 300 e il problema di quella soluzione sono essenzialmente due. Primo c'è ancora l'elastico di mezzo, la banda elastica. Secondo si possono ricaricare le tre batterie AAA con il corpo della lampada però se si utilizzano batterie ricaricabili l'output di potenza scende da 300 lumen a 175 praticamente la metà e ha una durata molto molto inferiore per ogni singola ricarica rispetto a delle batterie non ricaricabili alcaline o al litio. quindi sono passato a questo prodotto che ho trovato, ah poi diciamo che il Black Diamond Revolt costa su Amazon in Italia l'ho visto a 47 euro e poi ci svolgono 15 euro per comprare tre batterie ricaricabili AAA di qualità della Duracell sempre su Amazon e quindi il costo totale è 62 euro. La cosa buona del Revolt forse è che è molto impermeabile nel senso che lo standard è IPX8 quindi si può sommergere nell'acqua mentre il prodotto Zipka è IPX4 quindi è resistente agli spruzzi d'acqua. Per quanto riguarda l'utilizzo che ne facciamo noi in bici anche se lo vogliamo utilizzare quando sta piovendo sotto la pioggia solitamente abbiamo sempre un cappellino o comunque un cappuccio che ci ripara che ci ripara già dalla pioggia quindi se mettiamo la frontale è abbastanza riparata comunque schizzi di pioggia non sono un problema per questo prodotto. Perché sono passato a questo prodotto? Perché vi faccio vedere subito qual è il vantaggio dello Zipka 300. Vedete? Non ha più questa banda elastica quindi anche a livello di ingombro è molto meno ingombrante nelle nostre borse che non è mai male. Non ha un elastico ma ha questo cordino che viene ritratto tramite una una molla praticamente quindi questo cordino anche se si sporcherà la funzionalità della rimane. Lo possiamo mettere facilmente in testa ma lo possiamo mettere anche al polso o lo possiamo mettere da qualche parte sul nostro manubrio sulla bici su una prolunga no? E quindi secondo me è molto è molto più versatile. Molto più versatile. E' anche più semplice da usare perché ha qualche funzione qualche orpello in meno rispetto al sistema Black Diamond. Nella scatola ci sono tre batterie non ricaricabili dalla Duracell alcaline e poi vabbè c'è qualche pubblicità c'è un adesivo ci sono tutti i settings per per usare la lampada ma è molto semplice usarla. Il vantaggio di questo sistema secondo me è proprio quello che potete usare delle batterie ricaricabili e la potenza in uscita della della lampada rimane uguale sempre 300 lumen. Ieri notte ho fatto una piccola prova per comparare la vecchia Storm con la nuova Zipka e la Zipka con le batterie alcaline dalla Duracell nuove e la batteria la sua batteria ricaricabile e vedrete che non c'è differenza. Questo è il test della vecchia Diamond Storm con tre batterie nuove della Duracell Plus alcaline e questo è lo stesso test con la Zipka. Non so se vedete la parete in fondo è a circa 20 metri però vedete la differenza. Questo è lo stesso test da Zipka però con le batterie della Duracell le stesse e la potenza mi sembra uguale a quella delle batterie ricaricabili anche se non ho un misuratore di lumen ma mi sembra veramente uguale. Questo è come si vede il cerchio fluorescente la notte. Il corpo della Zipka 300 non può ricaricare le batterie ricaricabili però la Pezzel vende queste batterie, questo pacco batteria che va a sostituire le tre batterie AAA e la possiamo ricaricare direttamente con un cavetto mini USB e poi con il solito caricatore del cellulare. Quindi è veramente utile perché questo è anche un vantaggio se vogliamo perché possiamo ricaricare la batteria mentre potremmo usare la lampada con altre tre batterie che ci possiamo portare di scorta. Prima di parlare dei costi di questa lampada vorrei farvi notare che sul mercato ci sono anche i modelli precedenti di Zipka che avevano meno lumen quindi non erano così potenti. Come distinguere i vari modelli? Siccome su Amazon le ho visti che il modello vecchio costa molto di più, viene in più colori e costa di più. Allora, il modello nuovo che è uscito nel 2019 lo riconoscete perché viene in solo due colori, nero e verde. E il nero c'era anche nella colorazione vecchia, però li riconoscete benissimo perché il nero e i colori del modello vecchio erano trasparenti. Mentre questo è un verde solido e il nero è anche un nero solido. Io l'ho comprata su Amazon a 22 euro, 21,80 o una cosa del genere, nel colore verde. Il colore nero costa 3 o 4 euro di più, mi sembra intorno ai 25, 26 o 27 euro, siamo lì. E sinceramente a me non me ne frega niente del colore, ho preso quello che costava di meno. La batteria è un po' la nota dolente perché costa 25 euro, però chiaramente poi negli anni, se dovesse durare 10 anni, come è durata questa, di soldi di batterie ne risparmiate molti se usate questo sistema qua. Quindi il costo totale di questo sistema è 22 più 27, 49 euro. Se andavo per il sistema della Black Diamond, quindi il Black Diamond Storm che costa 47 euro e i 15 euro per 3 batterie e ricaricare i billy della Dujo Rachel, tutto sempre su Amazon, mi sarebbe costato 62 euro. Quindi c'è abbastanza risparmio comunque perché solo il corpo della lampada costa meno della metà. 22 euro rispetto ai 47 euro della rivolta. La cosa bella che mi piace dello Zipka è che è semplice, non ha una miriade di LED, di funzioni e di settaggi che uno deve ricordarsi della Black Diamond, ma è molto semplice, ha praticamente il modo low, in modalità low, funziona a 6 lumen, 10 metri visibilità fino a 10 metri di distanza e 120 ore di utilizzo, sia con batteria al litio, sia con batteria al caline o al litio o con la batteria ricaricabili. Poi si passa alla modalità standard, che è quella intermedia e quella è 100 lumen, 40 metri di visibilità, dura 9 ore con 30 ore di riserva, che presumo si passi poi alla riserva vuol dire il modo low. Poi passiamo alla modalità più, diciamo max power, da 300 lumen, che ha una visibilità fino a 65 metri, due ore di utilizzo, con le bacche, due ore di utilizzo, con 40 ore di riserva di energia, passando alla modalità low. Questo penso che sia una cosa automatica, non l'ho ancora consumata la batteria fino lì. Poi c'è la modalità luce rossa, con il LED rosso, e praticamente questa è la modalità che normalmente usiamo quando stiamo campeggiando, soprattutto quando non vogliamo farci vedere da nessuno, non vogliamo attirare attenzione particolare, stiamo facendo wild camping, stelt camping, e con questa luce non vi vede praticamente nessuno. È molto comoda da utilizzare anche dentro la tenda, perché un po' di luce rossa è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Io nella tenda normalmente utilizzo quasi solo, esclusivamente questo. Sempre con il LED rosso possiamo fare, vediamo se ci arrivo a farlo partire, possiamo fare uno strobo, non so se si vede. Lo strobo è visibile fino a 700 metri per 400 ore di utilizzo. La Zipka 300 ha anche un'altra funzione, che è praticamente un anello fosforescente intorno al LED principale, che ci permette di trovarla la notte, nel senso che anche se è spenta dovremmo riuscire a vedere e a localizzare la lampada. Sinceramente non è una cosa che ritrovo troppo utile, perché so sempre dove ho lasciato le mie cose, più o meno, anche perché se mantenete la stessa routine, mettete sempre le cose nella stessa borsa, e caricate e scaricate nella stessa maniera, montate la tenda, smontate la tenda nella stessa maniera, dovreste riuscire sempre a sapere dove avete le cose. Può essere utile, però la cosa a cui non è utile, che io ho notato, è che se tu la lasci spenta per un tot numero di ore, poi questa fosforescenza si va a perdere. Bene, in conclusione, a me piace molto questa nuova lampada affrontare, mi piace molto, che è comunque curata nei dettagli, come questa sorta di tappetino di materiale spugnoso, che dà una buona sensazione quando l'abbiamo sulla fronte, e comunque non lascia scivolare la lampada. Mi pare ben curata, me ne hanno parlato abbastanza bene, e quindi sono contento di portarlo con me nel mio viaggio. Se avete trovato questa recensione, questo video utile, datele un me gusta. Iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, la campana per le notifiche, ricordatevi che se ricevete la notifica del video di una recensione in tutoriale in inglese o in spagnolo, di andare nel canale e troverete la versione anche in italiano. Ci vediamo alla prossima, ciao!